Buongiorno a tutti, a nome di Tennis Frematemica io do in via a questa manifestazione, a questa finale, del camionato regionale profeo Giuseppucci, alla quale sono affrontate le due squadre che tra poco scenderanno in campo e quella per cui il GP fa a nome del Tennis Frematemica. Abbiamo qualche informazione più di natura tecnica per presentare queste squadre, dicendo che la squadra del GP Fano ha battuto il semifinale lo Iano-Strendis-Grempa di Fondriano e la Tennis Frematemica ha battuto il Corelli-Midi-Ascoli, quindi due squadre comunque molto forti e quindi un'ora aperta di chi è arrivato in finale. Andiamo alla presentazione dicendo che in ogni caso nei semifinalisti di questo torneo, l'anno prossimo disputeranno la torneo Giuseppucci nella seconda categoria, quindi sono state tutte e quattro queste squadre proposte alla quattro categoria superiore. Andiamo avanti presentando i giocatori che scenderanno in campo fra un po' in rigoroso ordine di classifica, quindi iniziamo per il GP Fano da Gianluca Landini, classifica 3-1, per proseguire con Claudio Messina, 3-5 e Giovanni Di Verdi, 4-1 questi sono i giocatori che tra poco dovrebbero in campo per la compagina di GTI Fano. Per il GP Fano da Gianluca Landini, invece, scenderanno in campo dalla stessa maniera ordine di classifica Simone Galloppa, 3-1 Gabriele Galloppa, 3-2 e Gabriele Volcarelli, 4-4 Giogaudiamo allo sport bene, visto che giochiamo in casa, diciamo così,vt la squadra di facciamo, qui presentiamo tutti, è andato avanti conwerkoli appunti, Alexander Cazzelli, L ALBUR5 Qui Paciaroni e Nicola Spuri. Questa è tutta la nostra squadra, le principali che hanno partecipato alla competizione e ovviamente parteciperanno alle altre gare dei tornei che verranno disputate nella federazione. Ok, allora fra un po' si inizierà la partita con il primo incontro che vedrà in capo Gianluca Lantini contro Rocca Simone su questo campo. Poi il secondo incontro inizierà, diciamo dopo un po', per consentire anche agli spettatori di poter vedere tutti i tuoi incontri. Il doppio si deciderà più alto e al termine di due secolari. Ringrazio tutti voi presenti, buon divertimento, bocca al lupo, salve ai compagni, venga il migliore e comunque sia avranno vinto entrambe. Grazie a tutti e a tutti.